Scegliere la santità non è mai impossibile. La santità non è un di più facoltativo o un traguardo solo per alcuni. È la vita piena secondo il progetto e il dono di Dio. È dunque un cammino che permette di sperimentare la propria umanità e quella degli altri. Il Rettor Maggiore, Don Ancel Fernando Ezzartime, ha presentato ufficialmente ieri, 27 dicembre, presso la Cata Generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la strena per il 2019, che ha come titolo La Santità anche per te e che approfondisce il testo biblico perché la mia gioia sia con voi. Erano presenti all'evento Madre Ivonne, Madre Generale delle SMA, e il suo consiglio. Grazie a tutti.